Avvocato Francesco Bellin, quindi la Brenta. Lei è un avvocato, a me piacerebbe parlare sai di cosa? Di città metropolitane, la gente veramente non sa più cosa capirci, si dice la politica è distante dai cittadini, ma fin quando la politica attua dei discorsi oppure delle frasi incomprensibili la vedo dura. Città metropolitana a me va bene che sia città metropolitana, che ci sia la provincia, che ci sia anche Bassanone e Grappa, ma che non tolgano i servizi alle città, specie all'ottava città veneta. Il Tribunale è una, tante cose si sono dette, tante cose si sono fatte. I servizi saranno un baluardo per quanto riguarda la vostra amministrazione, le vostre liste? Per quanto riguarda la nostra lista sicuramente è un baluardo perché i servizi sono fondamentali ed essenziali per tutti i cittadini, dai più piccoli e i più grandi. Non voglio parlare di anziani perché comunque li definisco persone mature che hanno diritto di godere dei servizi che loro hanno dato con i loro risparmi tempo dietro a questa nazione e adesso si ritrovano con un pugno di mosca in mano. Sono stati tagliati il Tribunale, che era un Tribunale uno dei migliori d'Italia, inspiegabilmente i nostri politici ce l'hanno tolto. Abbiamo perso il treno buono quando si doveva diventare provincia, i nostri politici che ancora oggi ci governano ci hanno tolto anche questa possibilità, con questa ci hanno tolto il Tribunale, adesso vogliono tolci l'ospedale e tra un po' ci toglieranno anche la gestione delle entrate, per quanto riguarda anche la conservatoria e si parla anche addirittura dei calabinieri. Ci tolgono anche la sicurezza di stare, passeggiare tranquilli per la nostra città, che è una città che è una perla dell'Europa, dell'Italia intera. Da avvocato mi deve rispondere a questa domanda, non è che tagliare oppure incorporare un ospedale serva a pro di incorporarli con altri ospedali che hanno dei deficit paurosi e quindi Bassano mi pare che come ospedale sia con i conti in ordine, che non vada poi dopo ad assistere, sussistere ad eventualmente altri ospedali che abbiano già dei buchi. È disarmante quello che sta succedendo, perché anche io c'era la schio per un'altra conferenza per quanto riguardava il problema dell'ospedale di Sant'Oso. Qui si vuole tagliare un ospedale che funziona. Abbiamo già ridotto tempo addietro, se vi ricordate, non esiste più l'ospedale di Marosti. L'hanno accorpato a Bassano e adesso vogliono toglierci anche questo ospedale. Cosa dobbiamo fare noi veneti? Oramai tutti i nostri servizi vengono tagliati inesorabilmente. Continuiamo a versare sempre a ogni piano tasse e lo Stato in cambio che ci dà. Nulla. Ci toglie perfino anche i servizi. Direi che abbiamo poche strade percorribili in questo momento se non un'autonomia che ci potrà rendere comunque tutti felici perché staremo bene qui a Bassano per vivere con i nostri giovani che hanno diritto di viaggiare, girare il mondo, ma hanno anche diritto di tornare e farsi una loro vita. Qui, perché qui hanno vissuto, ci sono i loro genitori, la loro storia e le loro identità. Ed è giusto che stiano qui. Io le auguro un in bocca al lupo. Grazie. Grazie.